Ormai è diventata la cosa più normale del mondo. I giochi in 4K non ci girano. Ed è assurdo. Project Relic è un Dark Souls coreano. Non ho un altro modo per chiamarlo. È un progetto completamente nuovo, ma che effettivamente sembra avere tanti lati positivi. Ho trovato un gameplay trailer online. Purtroppo quello che avevo visto io originariamente non è più disponibile perché è stato messo privato. E mi dispiace non averlo potuto scaricare perché era veramente, veramente, veramente molto bello. Però possiamo recuperare andandoci a vedere il trailer che ho trovato. Che complessivamente fa vedere un po' tutto quello che è il gioco. La parte dinamica, le luci, i movimenti, i barili che schizzano a caso e tantissime componenti del gioco. L'ho trovato decisamente molto appagante per l'occhio. È interessante vedere come hanno gestito, per esempio, gli svolazzi del mantello che, secondo me, in questo caso, sono fatti in maniera molto approssimativa. Però devo dire che effettivamente tutta l'ambientazione, se ci fate caso, anche se, guardando bene gli alberi, si capisce che sono ripetitivi e tutto il resto, io devo dire che è effettivamente bello quello che sto vedendo. Non posso dire una bugia e dire no, non mi piace per un qualche motivo. È molto bello. E la parte dinamica del combattimento, dove il personaggio comunque salta avanti, indietro, si muove in una maniera molto particolare, lo rende effettivamente forse unico nel suo genere. Ma ci toccherà aspettare ancora un pochino, e questo pochino potrebbe essere anche un paio d'anni, per vederne effettivamente una versione completa. Intanto ci possiamo divertire con i trailer, possiamo divertire... Trailer, trailer, si dice trailer. Ti rubo soltanto un minuto, qui sotto in descrizione trovi tutti i link ai nostri gruppi Facebook dedicati al mondo dei videogiochi di cui parliamo. Puoi entrare, condividere le tue esperienze, trovare persone con cui giocare e consigli. Quindi, quindi cosa? Iscriviti ai nostri gruppi Facebook e iscriviti anche al canale per supportarci e darci una mano a crescere. Torna al video. Dicevo che possiamo divertirci a vedere i trailer e immaginarci come sarà effettivamente il gioco, che mi sembra essere una via di mezzo tra un Sekiro, un Nioh e comunque un Dark Souls. Chiaramente un Dark Souls. Perché comunque l'ambientazione me lo ricorda e mi sa che sarà bello punitivo. Di quelli che faranno digrignare i denti e faranno venire anche un sacco di mal di stomaco. A quanto pare non ci sarà il 4K su Lords of the Fallen. Ne sembra ormai una moda non mettere il 4K, cioè metterlo upscalato e fare in modo che poi giri male con pochi FPS e con grossi cali. Questa cosa mi sta incominciando un pochino ad infastidire. Devo essere sincero e soprattutto mi infastidisce il fatto che quando uscirono tutte le nuove console next gen sembrava come se il 4K fosse la base di tutto e si potesse solo crescere. Invece qua siamo ancora al 1080p. E io non mi lamento, perché comunque effettivamente, gente, o hai un televisore 4K o non ti serve a un tubo il 4K. Però siamo nel 2023, ora quasi 24 e sono passati un tot di anni da quando ormai sono uscite le console next gen. Che aspettiamo a fare i giochi next gen? A quanto pare qui c'è ciccia per una nuova mod di Elden Ring dove troveremo effettivamente i Mac di Armored Core all'interno del gioco. E non che la cosa mi faccia impazzire perché effettivamente non ne vedo minimamente il senso ma mi fa un sacco ridere. È uscito un gameplay trailer di 7 minuti su Lies of P e uno showcase delle armi utilizzabili non tutte ovviamente ma una buona parte. Diciamo che la mia analisi a riguardo sarà già uscita nel momento in cui vedrete questo video. Di conseguenza non ha molto senso recuperare tutto il discorso ma mi faceva piacere inserire tutto questo all'interno comunque delle source news perché Lies of P è uno dei titoli che attendo di più in assoluto insieme a Lords of the Fallen quest'anno. E devo dire che quello che hanno fatto vedere è assolutamente bello. Non perfetto ma assolutamente bello. Abbiamo la possibilità di fare un sacco di cose i nemici sono vari e questa è una di quelle cose che trovo più appaganti all'interno di un gioco. Cioè io giro e non vedo sempre le stesse cose. È una di quelle cose che per me è opprimente all'interno di determinati titoli come Dark Souls 1 come Dark Souls 2. Però capisco che alcune situazioni vadano a delineare anche dei limiti dei limiti necessari per portare avanti dei giochi. In Lies of P diciamo che hanno trovato un ottimo compromesso e hanno comunque creato un mondo non esageratamente dispersivo ma comunque appagante per il giocatore. Abbiamo tante cose da fare abbiamo tante cose da vedere ma soprattutto cose da ammirare perché gli ambienti come prima cosa sono proprio belli da vivere belli da vedere. Ci sono delle finezze che si notano magari mettendo la versione quality che sono veramente impressionanti e poi come puoi vedere anche tu abbiamo un sacco di look a nostra disposizione e questa cosa è una delle più divertenti di tutte cioè il fatto di avere i set di abiti e poter mettere gli occhiali o cose di questo genere mi piace tantissimo anche perché gli occhiali ad esempio che indossa in questo momento a me ricordano tantissimo Vash The Stampede quindi c'è un personaggio che io adoro e crearmi il mio Pinocchio The Stampede è la cosa più divertente in assoluto che voglio assolutamente fare all'interno di Lies of P. In conclusione devo dire però una cosa ci sono delle imperfezioni che mi fanno storcere un pochino il naso nel complesso però il gioco è talmente bello da vedere che sono tutte cose su cui sono disposto a passare sopra in cambio di un ottimo gameplay e diciamo che c'è tutto E sì, piccolo spoiler mi sta proprio piacendo tanto A quanto pare Baldur's Gate 3 ha battuto Elden Ring sui voti Metacritic la cosa allucinante che io non riuscirò mai a capire è che con tutti i difetti con cui è arrivato inizialmente Elden Ring e sulla base di come è stato trattato Cyberpunk ai tempi diciamo che i voti alti di Metacritic non sempre li capisco e anche in questo caso un Baldur's Gate che batte Elden Ring non dovrebbe tecnicamente fare notizia cioè è normale che un titolo simile abbia dei voti alti perché a differenza di Elden Ring che comunque è un ottimo titolo è gigantesco è tutto quello che vogliamo ma è soltanto una piccola parentesi rispetto a un Baldur's Gate come misure come storia come complessità poi sinceramente voglio essere abbastanza trasparente in queste cose non riesco a capire come mai determinate cose facciano notizie e soprattutto come si faccia a paragonare Baldur's Gate ad Elden Ring capisco che su Metacritic non ci siano le categorie quindi non si fa distinzione il gioco è gioco punto e basta ma Elden Ring che cosa ha in comune con Baldur's Gate a parte il niente? Certe volte alcune informazioni arrivano talmente forzate che sono quasi al limite dell'assurdo anche perché parliamo di qualcosa che proprio come livello storico sono completamente agli opposti Elden Ring i Soulslike hanno una storia decisamente più giovane rispetto a quella di Baldur's Gate che è basata sul mondo di D&D e il mondo di D&D ormai ha una storia talmente profonda talmente radicata che potrebbe essere quasi paragonabile alla nostra quindi capite stiamo parlando di un qualcosa che è grosso come l'universo paragonandolo a qualcosa che è grosso quanto un granello di sabbia che poi a gusto personale io vi possa dire sì quel granello di sabbia per me è il granello di sabbia più bello del mondo è però un mio parere è una cosa mia tua di chi sta guardando non lo so ma è una cosa molto personale e boh mi sembra esagerato cercare proprio il paragone dove non c'è e anche oggi le pillole di saggezza di Andrea sono andate così nell'aere quindi noi ci rivediamo la settimana prossima mi raccomando iscriviti al canale e qua sotto ricordati che trovi tutti i gruppi facebook dedicati al mondo dei videogiochi di cui parliamo quindi iscriviti e condividi la tua esperienza ciao vuoi diventare anche tu un supportatore o meglio un sopportatore del canale e aiutarci a crescere puoi abbonarti così poi io ti metto in questa lista e alla fine di ogni video ti ringrazio grazie a tutti